Ciao, vi aspettiamo alla quarta di Scheggino, dove un bellissimo mercatino vi propone tutte le cose fatte artigianalmente. Qui da me potete trovare prodotti fatti con mucinetto, ferri, macramè e quant'altro. Vi chiamo fatti con il cuore e questi sono i miei prodotti. Se volete venirci a trovare, vi aspettiamo con un grande amore.